Ben ritrovati allo spazio dedicato agli appuntamenti. Apriamo con un evento musicale. Domenica pomeriggio alle 17.30 presso la parrocchia del Santissimo Redentore di Seriate si terrà una serata di musica sacra dal titolo Ad Vesperam con l'esibizione dei Pueri Cantores della Basilica di Santa Maria Maggiore di Città Alta, il soprano Linda Filz e Fabrizio Vagoncini all'organo. Dirige il maestro Roberto Mucci. L'ingresso è libero. Lunedì 22 presso il Centro Socioculturale di Bergamo si terrà un intero pomeriggio dedicato ai più piccoli con letture per bambini dai 3 ai 5 anni. Il progetto, chiamato Letture Golose, è a cura di Enrico Ragaini e grazie a Tricomi. L'ingresso è libero. Mercoledì 24 per la rassegna cinematografica Il futuro della memoria a sguardi sulla storia all'auditorium di Piazza della Libertà verrà proiettato C'eravamo tanto amati, un film di Ettore Scola del 1974 con Nino Manfredi e Vittorio Gasman. Il film inizia alle ore 21, l'ingresso è libero. Sempre mercoledì sera, a partire dalle 21.45 al Druso Circus, si terrà una serata a grange con il tributo in Irvana della band dei Smash Party. Il costo dell'ingresso con consumazione è di 5 euro. Chiudiamo con un evento molto curioso. Giovedì 25 si potrà trascorrere un'intera giornata sullo storico treno a vapore alla scoperta di Palazzolo sull'Oglio e del Lago di Seo. La partenza è prevista per le 9.55 alla stazione dei treni. È possibile partire anche da Treviglio e da Milano-Lambrate. È richiesta l'iscrizione. Per tutte le informazioni contattare il numero 334-1124-806.